Oggi andiamo a vedere come realizzare questo cestino con la fettuccia. Io sono Maria Chiara ed iniziamo con il tutorial. Iniziamo facendo il cerchio magico, prendo il filo e lo giro intorno alle dita in questo modo. Poi faccio passare l'uncinetto da parte a parte, prendo questo filo e lo faccio passare di qua. Prendo di nuovo il filo e faccio una catenella. Ora dentro questo cerchio andremo a lavorare 6 punti bassi. Se non sei iscritta sul mio canale puoi farlo cliccando qui sotto su iscriviti e attivando la campanella riceverai una notifica tutte le volte che carico un nuovo video. Lascio un pochino di filo, fermo il lavoro, giro il tutto e vado a stringere questo filo di scarto per stringere tutto quanto. Adesso con un uncinetto più piccolo vado a nascondere questo filo qui dietro. Adesso iniziamo a lavorare in cerchio ma invece di lavorare come si farebbe usualmente da parte a parte del punto andiamo in realtà nel centro esatto di questo punto che è qui. Entro, vado dietro e una volta che sono passata in questo modo prendo il filo e lo porto di qua così. Poi entro qui dietro nella fascia posteriore del punto basso sottostante, prendo il filo e faccio attraversare tutti e due punti. Ecco qui. Adesso entro sempre qui al centro perché dobbiamo fare un aumento quindi estrago il filo e poi faccio di nuovo un punto basso. Prima di continuare metto un segnapunto per indicare che questo è il primissimo punto che ho lavorato. Adesso entro nel punto successivo sempre al centro quindi vado qui, inserisco l'uncinetto e mi assicuro che passo esattamente nel centro. Poi prendo il filo, lo porto fuori, prendo il filo e faccio un punto basso. Adesso faremo una serie di aumenti in tutti i punti e quindi in ogni centro faremo due punti bassi e rientro nello stesso punto, prendo il filo, porto fuori, prendo il filo e porto all'interno. Vado nel successivo, porto fuori, punto basso, rientro, porto fuori, punto basso. Ci vediamo quando è finito e si è arrivata l'ultima maglia. Questo che ho sull'uncinetto è il mio ultimo punto e prima di chiuderlo faccio questa cosa. Entro nella fascia posteriore del punto basso successivo, che sarebbe anche il primissimo punto, faccio passare questo filo da tutte e due le parti per una chiusura più pulita. Ora tolgo il segnapunto, entro qui sotto al centro del primo punto basso e ti assicuro che non è una cosa semplicissima, quindi prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno e poi prendi il filo, lo porti fuori, fai un punto basso, posiziono il segnapunto e poi sempre qui sotto a questo punto facciamo un altro punto basso per creare un aumento. Ok, ci spostiamo nel punto successivo dove facciamo sempre al centro un solo punto basso, ora mi sposto al punto successivo dove vado a fare un aumento, quindi due punti bassi. A fianco faccio un solo punto basso e poi di nuovo a fianco un aumento e un solo punto basso, quindi continua così fino all'ultimo punto dove ci rivediamo tra un attimo. qui ho il mio ultimo punto, vado a fare il punto basso, invece di completarlo qui entro con l'uncinetto nella fascia posteriore del primo punto e poi faccio un collegamento con tutti i punti. tolgo il segnapunto e vado a fare un punto basso nel primo punto. bene, ora andiamo nel punto a fianco e andiamo a fare un punto basso. nel punto successivo faremo un aumento. poi di nuovo due punti singoli nei successivi due punti bassi, quindi uno e uno e un aumento nel successivo. se non sei iscritta sul mio canale puoi farlo cliccando qui sotto su iscriviti e attivando la campanella riceverai una notifica tutte le volte che carico un nuovo video. continuiamo in questo modo fino ad arrivare all'ultima maglia. ora che siamo all'ultimo punto e stiamo facendo l'aumento, come sempre andiamo a concludere questo giro inserendo l'uncinetto nella primissima maglia, prendiamo il filo e colleghiamo il tutto. tolgo il segnapunto e qui sotto vado a fare un aumento. poi vado a fianco e faccio un punto basso a fianco un altro punto basso e a fianco un altro punto basso. dobbiamo continuare così a fare per tutto il giro un aumento e tre punti bassi singoli. ci vediamo quando arriviamo all'ultimo punto. questo è l'ultimo punto, ci vado ad entrare per fare un punto basso e invece di concludere così vado come sempre qui alla parte posteriore del primissimo punto e collego il tutto. ora tolgo di nuovo il segnapunto faccio un punto basso singolo un nuovo punto basso singolo nel punto successivo un aumento nel prossimo punto e poi di nuovo un punto basso singolo e un altro punto basso singolo. adesso dobbiamo fare questa ripetizione di due punti bassi singoli nei successivi due punti un aumento e due punti bassi singoli nei successivi due punti si ripete così fino all'ultimo punto dove collegheremo come sempre ci vediamo lì tra un attimo ovviamente se vuoi un cestino più grande l'unica cosa che devi fare è continuare a fare altri giri con degli aumenti se vuoi le istruzioni dettagliate puoi andare qui sotto in descrizione dove trovi lo schema adesso che abbiamo fatto il solito collegamento abbiamo questo filo che dobbiamo un attimo lasciare da fuori poi andremo nel punto a fianco e giriamo il lavoro quindi qui questo filo va sul davanti entriamo con l'uncinetto in questo punto prendiamo questo filo e lo portiamo qui quando tutto è ben collegato prendo il filo dal davanti lo porto nel retro e faccio un punto bassissimo poi vado nel punto successivo prendo il filo e faccio un punto bassissimo e continuo a fare una serie di punti bassissimi per tutta la circonferenza una volta che ho fatto tutti i punti bassissimi io taglio molto molto filo all'incirca due metri due metri e mezzo e poi vado a far passare questo filo tutto attraverso l'asola poi faccio passare questo filo qui dentro attraverso l'asola stringo bene e faccio una catenella adesso entro qui nella v del punto bassissimo e andremo a lavorare qui il punto basso porto fuori il filo e prima di collegare il tutto faccio questa cosa qui giro l'asola del punto basso in modo che sia frontale poi entro attraverso la catenella di prima e solo adesso prendo il filo e solo adesso prendo il filo attraverso le due asole adesso vado a fianco e faccio un altro punto basso e continuo a fare una serie di punti bassi per tutta la fascia di punti bassissimi che ho fatto prima se il filo dovesse finire prima che riesco a completare il filo dobbiamo fare questa cosa qui creare il punto basso ma non completarlo poi prendere il nuovo filo lasciare 15-20 cm e a questa distanza facciamo il punto bassissimo stringo bene i fili dietro faccio un nodino e solo in seguito li vado a fissare nelle trame posteriori con l'uncinetto e continuo a lavorare con il filo nuovo che proviene dal gomitolo una serie di punti bassi fino a che completo tutto il giro ci vediamo quando arriviamo all'ultimo punto arrivata a fare il punto basso nell'ultimo punto bassissimo c'è questo gap questo buchino di mezzo allora cosa vado a fare vado a fare un punto basso anche qui sotto cercando di prendere le trame che sono ovviamente dalla parte di qua di questa fascia e quando ho trovato i punti giusti faccio il punto basso così almeno da avvicinare questi due punti e poi vado a inserire l'uncinetto al centro di questo punto basso prendo il filo lo porto fuori e poi una volta che ho il filo diritto bello chiaro prendo quest'altro punto prendo il filo sopra l'uncinetto e completo il punto basso e dovremmo ripetere questa cosa a tutti i collegamenti adesso continua a fare la tua fascia fino ad arrivare all'altezza che vuoi e ci rivediamo qui tra un attimo ora che abbiamo raggiunto l'altezza finale del nostro cestino andiamo a inserire l'uncinetto nel centro prendiamo il filo e lo portiamo da questo lato con questo filo nel retro andiamo a fare una serie di punti bassissimi su tutta la fascia prendendo con l'uncinetto il centro esatto del punto basso ci vediamo quando arriviamo qui adesso che siamo arrivati all'ultima maglia cacciamo via il filo se non l'hai già tagliato taglialo poi entriamo con l'uncinetto nel primo punto bassissimo facciamo passare il filo in questo modo e poi entrando da qui dietro passo esattamente al centro dell'ultima dell'ultimo punto bassissimo e faccio rientrare questo filo all'interno quando abbiamo sistemato il tutto andiamo a nascondere questo filo nelle grane posteriori con l'uncinetto e il nostro cestino è concluso se questo video ti è piaciuto mi raccomando lascia un mi piace qui sotto al video iscriviti al canale se non sei già iscritta e puoi condividere questo video con tutti i tuoi amici grazie e alla prossima grazie